ciao ragazzi per voi una nuova recensione vediamo questa volta il nuovo casco marcato ebo facciamo l'unboxing insieme adesso facciamo un po più di luce così lo vediamo meglio nel dettaglio qual è la particolarità di questo casco lo vedete oltre al design molto molto aggressivo e molto moderno è completamente privo di viti e bottoni come potete vedere questa la versione in fibra di vetro mille grammi dichiarati mentre invece la versione in fibra di carbonio pesa circa 900 grammi completamente sfoderabile per la pulizia e l'igiene interno in tessuto ipoallergico i punti di contatto sono stati studiati fin nei minimi dettagli per dare il meno fastidio possibile infatti è comodissimo naturalmente l'ho già personalizzato ci mancherebbe altro ovun ovun Grazie per la visione! Grazie a tutti!